Nuovo appuntamento con il notiziario targato Star Casino Sport. Tutte le tematiche di giornata con il riferimento ancora una volta al Milan perché ieri è stata la giornata dei festeggiamenti con le immagini che ci portano direttamente da casa Milan al Duomo con tanto di foghi d'artificio e il pullman scoperto con tutti i giocatori del Milan protagonisti acclamati dalla folla con un capopopolo come Zlatan Ibrahimovic. Con lo scudetto sul petto dopo la cavalcata triunfale appunto dei rossoneri in questa stagione. Sono giorni di festa ovviamente di entusiasmo per il Milan che nella fattispecie inizia a progettare anche quello che sarà l'anno prossimo quando chiaramente avrà lo scudetto proprio cucito sul petto. Queste alcune delle immagini proprio nella serata di delirio nella giornata di ieri con i tifosi e con l'abbraccio ai giocatori stessi. Ma sarà anche la settimana della Conference League. Allora in grafica andiamo un po' a sintetizzare quello che è l'appuntamento più atteso per la Roma. Roma che affronta il Feyenoord in quel di Tirana. Come finirà il match finale di Conference League? Segno 1 al 40%, segno X al 25%, segno 2 al 35%. Ancora sul match tra Roma e Feyenoord quale sarà il risultato esatto? 1 a 0 al 17% e 1 a 1 al 14%. A proposito dei festeggiamenti andiamo anche in Inghilterra perché a proposito di pullman scoperti anche il City è andato in passerella per la città. Capopopolo questa volta Pep Guardiola, l'allenatore della squadra campione d'Inghilterra. Queste alcune immagini, anche qui il delirio da parte dei tifosi. Siamo praticamente alla conclusione della stagione. È stato un testa a testa con il Liverpool e poi è riuscito comunque il City a guadagnarsi quello che ha provato a seminare durante tutto l'anno e poi è raccolto proprio in finale. Tanti protagonisti, da Rodri ovviamente a Gundogan, lo stesso Joao Cancelo, vecchia conoscenza del calcio italiano, ma soprattutto l'allenatore a richiamare l'attenzione. Pep Guardiola, assoluto protagonista in quel City che dunque vince in Premier League nel testa a testa con il Liverpool. Eccolo qui, aizza anche la folla, Pep Guardiola, Liverpool che ora giocherà la finalissima di Champions. Allora andiamo anche qui a sintetizzare in grafica alcune delle curiosità che ci portano alla sfida tra la squadra di Jurgen Klopp e quella di Carlo Ancelotti in Liverpool-Real Madrid. La finale di Champions League, come finirà il match? Segno 1 al 50%, segno X al 20% e segno 2 al 30%. È tempo di verdetti o meglio di parte conclusiva della stagione anche in Serie B. Siamo arrivati praticamente all'ultimo turnante, quello che andrà a decretare la terza squadra promossa in Serie A nel duplice confronto tra Monza e Pisa. Allora andiamo in grafica. Monza-Pisa, come finirà il match? Segno 1 al 50%, segno X al 30% e segno 2 al 20%. E con la Serie B siamo in chiusura del nostro consueto angolo informativo targato Star Casino Sport. Grazie a tutti.